Stamattina si è realizzata la prosecuzione del viaggio che abbiamo fatto in Cina quest'autunno come città metropolitana e si sono venuti alcuni imprenditori cinesi che, coordinati dal governo centrale cinese, stanno facendo un tour in Italia per attivare partnership e collaborazioni. Con noi il rapporto già è ben avviato, abbiamo una partnership abbastanza consolidata e espressamente abbiamo proposto e abbiamo concordato di operare un grosso intervento per le universiadi collegando questo evento ad una serie di eventi culturali che noi terremo a Napoli su cui i tour operator cinesi faranno dei pacchetti molto selezionati di turismo culturale a fianco a quelli di turismo sportivo. Siamo venuti qui per fare degli scambi culturali in particolare riguardo il calcio e tutto quello che è connesso alla cultura del calcio. In pratica per tanti anni con questo gemellaggio che c'è stato tra la provincia del Fugia e la provincia di Napoli gli scambi culturali non hanno portato degli effetti particolari quindi loro come imprenditori con alle spalle del governo sono intervenuti proprio perché grazie alla visita del vice sindaco metropolita Pace che ha sbloccato tutta questa situazione si è creato insomma un ambiente giusto per gli investimenti bilaterali e per la collaborazione per cui loro hanno deciso di venire a Napoli come hanno promesso quando il dottor Pace è venuto in Cina e quindi per sbloccare questa situazione e finalmente portare a termine degli obiettivi concreti.